Allora solo gli ingredienti non bastano che cosa ci vuole ci vuole ingredienti di prima qualità ci vuole una cucina ci vuole un chef capace e una pentola buona che abbiamo tutto assieme quindi Piliparina che ha disegnato per Mepra una linea di batterie ad hoc per la casa ha vinto il premio Red Dot che è un premio sul design mondiale quindi Mepra che è un'azienda linea si è affidata a Piliparina che sappiamo chi è e ha ideato questa linea di batterie tra le batterie da contorre come uno vuole a casa sua tra cui gli antiaderenti che stanno usando in questo momento lo chef soprattutto hanno il fondo spesso che vanno benissimo aperti in piani a indizioni i piani a indizioni infatti stiamo lavorando con un piani a indizioni ma Mepra non guardano le pendele... certo, Piliparina ha ideato tutta questa linea di posaterie per casa che prevede il coltello per il pesce, il coltello per la carne, per la paratorta i mezzi a servire, i coltelli in base alla portata che serve stasera stiamo degustando un risottino fatto dallo chef con scampi e burrata che sarà un piatto che sarà servito poi nel ristorante del Lido Parigi eccezionale, auguri e complimenti grazie 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 grazie